Sono Giuseppe Negri, lo chef del Rosso di Sera, l'ideatore assieme a Dennis del corso di cucina, i segreti tra i fornelli. Questo corso è nato per valorizzare il ristorante e per far capire ai nostri clienti quelle che sono le nostre preparazioni, sia tecniche che presentative. E' divertimento, e non avere l'ansia da prestazione quando fai un piatto. O l'amore. O quando fai l'amore. In cucina è un po' come fare l'amore, un po' come fare l'amore. L'ansia da prestazione. L'ansia da prestazione. Perché amo il cibo, ma non sono molto brava a cucinare. Ho scelto per curiosità più che altro. Diciamo innanzitutto ho conosciuto altri sette compagni d'avventura veramente straordinari, persone piacevolissime. E poi lo chef. Lo chef Giuseppe vive di questo lavoro, ma soprattutto parlando con lui, vivendo al suo fianco in queste tre giornate, tramanda proprio la passione per questo lavoro. Il martedì è la sua giornata libera eppure lui è qui assieme a noi a insegnarci i trucchi di questa professione bellissima. Ciao, da Rosso di Sera. Stai leggendo il vaccino? Sì, bacio anche tu. Ciao, sono Jonathan, il video. The Club. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. No, e comunque pare che stasera... Pare che se non ci spegni la luce possiamo andare avanti duecento ore. Pare che stasera, pare, noi dovremmo fare i giudici. Pare, direi. Pare dovremmo fare i giudici. Pare. Sì, anche stasera. Abbiamo sentito questa cosa. Quindi accettiamo Bustarelli. Grazie. 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 Grazie.